ariete va placandosi il momento impetuoso che ha portato qualche sconvolgimento una irruenza accentuata mentre si conferma un conflitto nel settore sentimentale una verifica che consente di chiarire le vostre esigenze affettive toro marte fa l'ingresso nel segno e vivacizza le vostre giornate attiva qualche passione magari in ambito amoroso complice venere amica che vi stuzzica a breve anche urano entrerà in transito nel segno ed emergerà una inusuale per voi voglia di libertà gemelli la luna armonica oggi piega l'umore al positivo stimola allegria e vi sintonizza con i fatti del quotidiano nonostante qualche dubbio su alcune questioni di carattere lavorativo che possono suscitare incertezze cancro migliora l'assetto del cielo astrale e adesso avvertite una rinnovata grinta che vi spinge ad affrontare senza troppi indugi alcune problematiche che possono nascere soprattutto nella sfera amorosa nel rapporto col partner leone periodo caratterizzato da una certa irrequietudine da un probabile calo fisico che inquina la stabilità delle vostre giornate la luna armonica comunque oggi allieta all'umore e rende tollerabili gli spigoli del quotidiano vergine giornata poco soddisfacente siete prigionieri di sensazioni basse che vi portano a confondere obiettivi in realtà oggettiva tuttavia la nuova angolazione positiva di marte vi imponderà una nuova risolutezza e lo spirito combattivo bilancia una buona giornata vi apre le porte la morsa delle tensioni va spezzandosi e rimane da stabilizzare la vostra armonia interiore insieme ad eventi di carattere sentimentale che esigono una conferma una decisione profonda scorpione marte si pone in aspetto di opposizione e può suscitare una irrequieta modalità di affrontare le situazioni un nervosismo generalizzato la prudenza è consigliabile non fatevi vittime delle vostre stesse passioni sagittario la luna nemica oggi disturba l'umore e acuisce la sensazione di dubbio su alcune questioni poco chiare sia di lavoro che nelle relazioni l'effervescenza degli ultimi tempi viene contenuta mitigata da nuove prese di coscienza capricorno le influenze planetarie si dispongono armonicamente e inizia per voi una fase di positiva attività di energia di motivazione l'amore risulta favorito la stabilità è la vostra priorità che vi induce ad equilibrare sentimenti e praticità acquario potrebbe arrivare qualche pressione che vi orienta all'agitazione la vostra indole non tollera le costrizioni e pretende una autonomia che a volte non è facile da ottenere il supporto di giove positivo comunque agevolerà il vostro percorso pesci periodo di bella capacità creativa potete dare libero sfogo al vostro estro in un quadro astrale che va migliorando l'armonia generale e vi imponde più amore più passione non perdete però un sano realismo buone stelle potete 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 potete